partete in vantaggio per linee in terra e Urrimera con ai fianchi Ruta poi Pante Riga in terza posizione all'esterno di Esoterica segue Davidia con all'interno Tessidora quindi Pilot e Occhiwea Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Ruta che è passata in vantaggio nei confronti di Pante Riga che ora si propone al suo esterno poi Urrimera all'interno con ai fianchi Esoterica ancora Davidia poi Pilot Tessidora e Occhiwea gruppetto riunito lungo la curva con Ruta che ora subisce la pressione esterna da parte di Pante Riga che passa in leggero vantaggio al suo esterno in terza posizione all'esterno risale Davidia con all'interno Esoterica poi Pilot, Turrimera e Occhiwea e Tessidora siamo in retta di arrivo con Pante Riga attaccata all'interno da Ruta a largo dei due si presenta ora Esoterica che di slancio sta passando nei confronti di Occhiwea poi Tessidora che si trascina all'esterno Pilot Esoterica a 350 dal palo figura in vantaggio nei confronti di Occhiwea tra le due cerca di avanzare Tessidora mentre all'esterno è Pilot siamo nel tratto finale Occhiwea è passata su Pilot che scatta a centro pista mentre all'interno avanza anche Tessidora nel finale Pilot Tessidora in lotta Pilot Tessidora all'interno poi a ridosso Occhiwea terza davanti a Esoterica andiamo a rivedere le immagini di questo bel finale con Pilot all'esterno Tessidora all'interno tra i due Occhiwea nelle ultime battute all'esterno Pilot si avvicina molto a Tessidora poi al terzo posto il 6 di Occhiwea considerando che la camera non è in linea è meglio aspettare il risponso del giudice d'arrivo tra Tessidora 4 e Pilot 3 al terzo posto sicuramente il 6 di Occhiwea è tutto per oggi da Agnano a risentirci sabato per il prossimo convegno di galoppo